musica 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 Io mi metto l'ombretto prima della diretta su Facebook Già che ci sono, metto anche questo C'ho un gatto che vuole farmi male Ma che vuoi? Ma che suono in diretta? Ma che è vero? Ma questo è il video? Ciao a tutti bimbi! Salve a tutti! Salve! Non mi ero accorta che eravate lì e mi stavo truccando Salve! E salve! E io sono QQ Ciao a tutti! Salve! Salve! Io sono QQ Non mi aspettavo di trovarvi subito lì Cari bimbi abbiamo visto i cagnolini così bravi e intelligenti e io sono qui per dirvi che anche i gatti lo sanno essere e vi mostro adesso quanto è possibile insegnare cose da intelligenti ai nostri cagnolini e ai nostri gatti anche quindi io adesso abbiamo bisogno di un gatto eccolo un attimo che qui c'è un gatto eccolo qua ciao Rosetta ciao vi farò vedere come Rosetta sa leggere sa leggere? sì la mia gatta ha imparato a leggere del resto la mia gatta insomma è una gatta intelligente e vi faccio vedere vi faccio vedere guardate eh Rosetta che c'è scritto? ah! ah! no vabbè scherzavo scherzavo non ci volevo importunare sei sicura che non vuoi leggere nemmeno un pochino? no scusa ma nemmeno un pochino e dai un pochino non ti va di leggere nemmeno un po' dai leggi qui che c'è scritto ah! sì così insomma un pochino un pochino Grazie a tutti.